Era l'inverno del 1959, che fra parentesi fu un inverno estremamente rigido. Mio figlio Gabriele, che a quel tempo aveva 15 anni, non sopportando una mia giusta osservazione, uscì di casa sbattendo la porta. Io allora lo raggiunsi e lo fissai negli occhi e gli dissi domattina andrei a scuola senza scarpe, a piedi nudi. La sera stessa trovai sul cuscino del mio letto un biglietto. Sapete cosa c'era scritto? A stronzo, punto esclamativo.